Sono dell'idea che il lavoro che sfrutta le persone rendendole alienate e quindi molto infelici faccia leva sul senso di colpa oppure sull'occupare la vita. Quindi molti magari si annoiano e un'occupazione, un antidoto al non senso della vita è lavorare. Carmelo Bene giustamente distingueva tra il lavoro e il posto di lavoro, cosa che anch'io mi sento di condividere, nel senso che il posto di lavoro non serve a umanizzare l'uomo se non gli permette di dare una forma alla sua vita. Se poi lo stipendio per qualcuno è un modo di dare forma ai suoi desideri, quindi in un certo senso alla sua vita, però è ancora un desiderio che guarda sostanzialmente agli oggetti, quindi che guarda al desiderio di oggetti e non al desiderio, come dire, indifferenziato e non a un desiderio, diciamo, sano, che io non so definirvi però per ora definiamolo così. Io vi faccio queste riflessioni leggendo una cosa che non mi aspettavo di leggere, che è il complesso di Telemaco di Massimo Recalcati, e devo dire che è un'interpretazione un po' più divulgativa di quello che diceva Lacan, veramente, perché i suoi seminari sono molto difficili. Carmelo Bene fa un'ulteriore riscrittura di Lacan, revisione, insomma, insomma, alla sua idea di Lacan, alla sua interpretazione di Lacan, e molti prendono Carmelo Bene come un totem dell'imperante desiderio capitalistico, quindi un desiderio indifferenziato, di godimento per tutto e per tutti. delle masse. Ecco, Carmelo Bene io non credo dicesse esattamente questo, è vero che parla dell'aldilà del desiderio, che potrebbe essere forse una cosa non del tutto sana, questo non lo so, però lui parla anche del problema del posto di lavoro, quindi quelli che fanno i borghesi arrabbiati, che però usano il posto di lavoro, cioè Carmelo Bene non era un totem per questo genere di gente, perché è una, diciamo, cioè lui dice anche questo, ma è una interpretazione non voluta da Carmelo Bene, ecco. Forse questo, anche su questo fraintendimento, si è basato anche parecchio del suo successo, forse questo non lo so, perché negli anni della contestazione, quindi del 68, che proclamava proprio questa libertà, che poi era una libertà che si tramutava in schiavitù per gli oggetti, perché, ripeto, se uno vuole essere libero solo per essere indipendente dai suoi genitori, per avere uno stipendio, allora poi tutto si risolve nel comprare, quindi bene, benissimo, il, diciamo, l'autonomia, però se poi questo si riversa soltanto nel desiderio di oggetti, allora diventa una cosa capitalistica molto, molto sterile, insomma, mentre se si basa su desideri che hanno a che fare con la persona, con delle aspirazioni, ora io non so i termini lacaniani, non saprei darvi su questo un'argomentazione, però allora in quel caso, sì, c'è un desiderio più sano. Quindi Carmelo Bene non inneggia al godimento della merce, ecco, questo sia chiaro per molti, o al godimento dell'usare le persone come oggetti, no, Carmelo Bene fa questa, l'occhiolino a questo, forse, non lo so, fa un po' il verso a questa, a questo movimento retorico di capitalisti burini proprio, però, in cui poi siamo immersi ormai tutti, però lui non sta dicendo quello, lui sta parlando di una cosa al di là del desiderio quasi mistica, quindi non l'al di là del desiderio capitalistico, cioè il godimento della merce o comunque dell'altra persona come una merce, quindi non come un fine, ma come un mezzo, un oggetto, una merce, ecco, quindi, o la schiavitù del lavoro, che poi nel 68, diciamo, la pretesa di libertà, poi si trasforma in schiavitù, ecco, quindi, tutte queste cose, quindi Carmelo Bene voleva significare questo e non il godimento della merce, ecco, anche se io ho il timore e l'impressione che molti l'abbiano, lo stiano interpretando in questa maniera, anche per questo, mi sono stufato di voi, rompicoglioni, fan di Carmelo Bene, che dà la parola fan, appunto, o tifosi, il tifo è una malattia, il fan comunque viene da fanatico, cioè si rischia di proiettare su Carmelo Bene cose che lui magari ha anche un po' detto, strizzando l'occhio a una certa cultura dominante, ma proprio per sconfessare quelle cose lì, perché lui stava parlando di un'altra cosa, non certo del godimento della merce, perché lo dice in molti posti è inequivocabile in molti libri, in molte interviste, che non sta parlando di quel godimento indifferenziato, che anche in questo caso si chiama godimento, o al di là del desiderio, al di là della volontà, che è poi il godimento, quello in cui siamo tutti schiavizzati, capitalistico, il godimento della merce. è un po' detto,